Quanti anni ha, Costantino? 70 anni male, signor Kelly. E' tutto passato fino a noi, Susanna. E perché non deve voler? Non lo diciamo noi, sennò. Lei. E non gliela vogliamo dare una mano a questo nostro figlio? E' migliore a prendere l'arresto, eh? Come ti ha dato l'affizzo mio. Ieri sono andato a vedere A Sandira di Salvatore Mereu, al cinemastra, al multisalastra di Venezia. Un film che parla di una tragedia di questo padre, Costantino Sauru, che perde il suo figlio dopo un incendio all'agritoismo a Sandira, appunto, che dà il titolo al film. e l'intero film è un intreccio di investigazione e di ricordi del padre. Ricordi amari, ricordi felici, che acquiscono la sensazione di impietà di Costantino e rimasto solo con l'unica speranza del nipote che sta per nascere nel grembo della sua nuora. Un punto che trovo molto forte del film è la totale mancanza di una colonna sonora che amplifica la sensazione di desolazione che Costantino prova. Anche il continuo passaggio dal dialetto sardo stretto all'italiano corretto aumenta il divario generazionale e socioculturale tra Costantino e i personaggi del film. Un film che certamente consiglierei, un film da non perdere. e superi la stronti che ha daí che intendo da un credito di sostanza, e superi un film che sicuro non ha accaduto il fatto di essere, non vuoi rimasto che non ha accaduto il fatto di essere quittà oltre anche un un secondo. Ma e le scuole, si chiude, e, la scuola, si trova, è un amore che il film che è stato più ampio, Grazie a tutti